Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura una ampia pagina di cronaca, ancora sangue nelle strade aretine con una giovanissima vittima che ha perso la vita. L'incidente si è verificato questa notte in località Ruscello. Una Polo con quattro persone a bordo è finita fuori strada. Paolo Berbeglia, uno dei passeggeri, è deceduto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Ci ricostruisce tutto in questo servizio Chiara Sadotti. Tragedia della strada stanotte alla periferia di Arezzo, nella quale ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Tre coetanei sono rimasti feriti in maniera più o meno grave. È successo dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale 21, poco prima dell'abitato di Ruscello. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, a bordo dell'utilitaria quattro giovani che stando ad una prima ricostruzione sarebbero usciti di strada. L'auto è ribaltata più volte impattando anche contro un lampione. Poi ha finito la sua terribile corsa dopo un centinaio di metri proprio in questo punto. Ha sentito le ambulanze e poi le sirene? Le ambulanze sì, come minimo tre. E dopo anche un'altra che veniva da Pevatoppo, quattro. La vittima si chiamava Paolo Berbeia, militare del reggimento Giannio Ferroviari di Bologna. È morto sul colpo. Al momento dell'impatto si trovava sui sedili posteriori. Uno degli amici è stato invece li trasportato al policlinico Le Scott in codice rosso. Imprognosi riservata non sarebbe in pericolo di vita. Mentre altri due ragazzi sono stati trasferiti all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Per estrarre i giovani dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri a cui adesso spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È ancora un grave incidente stradale in provincia di Arezzo dopo il mortale di stanotte a Ruscello. Intorno alle 13 di oggi c'è stato un intervento della centrale operativa di Arezzo dell'emergenza urgenza nel comune di Prato Vecchio Stia, lungo la statale Stia Londa per un sinistro in moto. Un motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata, la misericordia di Stia e il Pegaso 1 che ha trasferito il paziente al centro traumatologico ortopedico di Firenze. Ed incidente in gara invece alla corsa ciclistica riservata ad Elite e Under 23 della Coppa di Castiglione Fiorentino, la ventunesima edizione che è in corso proprio oggi. C'è stata una rovinosa caduta che si è verificata intorno alle 13.30 al termine della discesa tra via Bartolomeo della Gatta e via Val di Chio. Quattro i giovani ciclisti che sono rimasti coinvolti, due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale della Fratta di Cortone e un altro in codice giallo al San Donato di Arezzo e il più grave in codice rosso al Policlinico, le Scotte di Siena. Sono intervenute oltre alle due ambulanze presenti sul posto per l'evento, l'ambulanza infermierizzata di Cortone è quella della misericordia di Lucignano. Un altro incidente in bici si è verificato invece in località a riserva dei Monti Rognosi nel comune di Anghiari. Un uomo di 50 anni è caduto da una mountain bike, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di San Sepolcro e l'elisoccorso di Pegaso. E sempre nella giornata di oggi un altro incidente, questa volta a lungo l'autostrada, a uno in direzione nord. Un'auto ferma in corsia di emergenza è stata urtata da un altro mezzo in transito. È stato soccorso un uomo di 40 anni, residente a Terni, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale della Gruccia. Sul posto è intervenuta la misericordia di Montevarchi. L'ultimo intervento invece della centrale operativa di Arezzo è di oggi alle 16 per un altro incidente stradale tra due auto lungo la senese Aretina al Bivio per Fighille. Un 35enne e una 36enne sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. Sono intervenuti due ambulanze infermierizzate da San Sepolcro e da Pieve e Santo Stefano insieme alla misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E cambiamo argomento, passiamo all'economia perché ha aperto i battenti proprio oggi Oro Arezzo, 370 gli espositori con le nostre telecamere. Siamo andati a vedere come sta andando il servizio. È di Greta Settimelli. Quali pensi di Made in Italy? Made in Italy è sempre il migliore. Perché nel campo di giallo abbiamo tantissime macchine, Germania, USA, Cina, Taiwan, ma l'Italian è il migliore. Il Made in Italy è il migliore. A dirlo non siamo noi ma sono i buyers internazionali che stanno affollando gli stand di Oro Arezzo 2024. 370 gli espositori. Di questi 87% sono italiani, 13 esteri. Per l'oreficeria e la gioielleria il 52% dei brand proviene dalla Toscana. Oltre 400 buyer che quindi portano una contabilità positiva rispetto a questo. E questa è una scommessa vincente secondo me che è stata portata avanti da IEG in accordo con quelli che erano gli accordi fin dall'inizio del rapporto che abbiamo avuto e che fa di Arezzo secondo me anche tendenzialmente un punto di eccellenza. Dalla manifattura al design, dalle tecnologie alla sostenibilità con un nuovo incontro tra industria orafa e quella dell'accessorio moda fino alla formazione degli operatori del settore Oro Arezzo è la piattaforma di riferimento internazionale per la manifattura Made in Italy. Le aziende si presentano sempre con la loro veste migliore quindi sono cresciute tantissimo. Tutto il comparto aretino si stringe intorno a questa fiera, collabora appunto con IEG con le istituzioni per far crescere sempre di più Arezzo come distretto, il più importante distretto europeo con numeri importanti quindi Arezzo, città dell'oro, diciamo una gold valley, la vediamo un po' così. Voi arrivate da Vicenza? Sì, noi veniamo da Vicenza ma adoriamo Arezzo perché Arezzo ha questo background rinascimentale che deve essere portato nel mondo come casa del Made in Italy. Si creano dei gioielli che sono un po' unici, che sono irripetibili, che sono proprio studiati anche per certi mercati. Infatti abbiamo queste nuove collezioni fatte, mirate per certi mercati e studiate per certi clienti. Ecco, quali sono i vostri mercati principali di riferimento perché il gioiello alle sue spalle è davvero molto importante? Vabbè, indubbiamente sono mercati arabi questi, senza dubbio. C'è questa ricerca anche nei volumi perché come sapete con il prezzo del metallo si tende a abbassare il volume. Però per certi mercati questa cosa anche no. Si può avere anche pezzi importanti perché c'è richiesta di pezzi importanti. E le condizioni geopolitiche influenzano o non influenzano? Influenzano certamente, infatti si spera che ci siano situazioni sempre più positive e meno catastrofiche per questo mercato. Torniamo adesso alla cronaca. Ricercato dall'ottobre del 2023 con una serie di reati commessi nell'aretino, è stato rintracciato dalla polizia locale in un appartamento a Chieri nel Torinese. Si tratta di un cittadino ganese di 25 anni che è stato arrestato. Su di lui pendevano numerose accuse per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. E adesso passiamo alla politica. I giochi sono fatti. Oggi sono scaduti i termini per presentare liste candidati per le prossime amministrative dell'8 e 9 giugno. 26 i comuni al voto. Il servizio. È scaduto alle 12 di sabato 11 maggio il termine ultimo per depositare le liste elettorali nei 26 comuni che saranno poi chiamati l'8 e 9 giugno ad eleggere sindaci e consiglieri comunali. Gli elenchi con i candidati alle cariche di sindaco e consigliere corredati dai simboli, dalle firme di convalide e dalla relativa documentazione saranno adesso sottoposti alla verifica delle commissioni elettorali. Si chiudono così i giochi e la campagna elettorale può entrare nel vivo. Dei 26 comuni dell'Aretino, due quelli che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Si tratta di San Giovanni Valdarno e Cortona, dove in quest'ultimo caso sarà una corsa 5, quella per la fascia da primo cittadino. Altrettanto numerosi candidati e le liste a sostegno a Subbiano. In questo caso quasi uno ogni mille abitanti. In tre comuni invece sarà una corsa contro l'astenzionismo. A Sestino, Talle e Castiglion-Fibocchi i cittadini troveranno infatti solo un simbolo relativo al candidato alla carica di primo cittadino. In questi comuni sarà però necessario portare alle urne almeno il 40% degli eventi diritto al voto per evitare il commissariamento dell'ente. E domani torna l'appuntamento con il Mercatino del Calcit d'Arezzo che quest'anno taglia il traguardo delle 70 edizioni. Vediamo. Era il primo ottobre del 1978 quando Piazza Saiacopo fu invasa da scatoloni di giornalini e giocattoli usati. Così nacque il Mercatino dei Ragazzi del Calcit, manifestazione che quest'anno taglia il traguardo delle 70 edizioni e che è stata presentata alla scuola primaria statale Pio Borri. Dopo la pandemia avevamo ovviamente smesso questa buona abitudine, adesso la riprendiamo e ha un significato ovviamente di sensibilizzare i ragazzi e di riprendere qualcosa che nei primi anni del Calcit c'era una grande adesione da parte delle scuole, perciò poi un pochettino si è persa ma adesso cerchiamo piano piano di riprenderla perché in questa maniera pensiamo appunto di preparare quello che saranno i mercatini del futuro che sono veramente animati dai ragazzi. Infatti già in questa edizione ci sono diverse scuole che hanno aderito. 250, i banchi 400, le bambine e i bambini che domenica 12 maggio saranno presenti nella zona Eden. L'obiettivo resta quello di raccogliere fondi per il servizio scudo, cura domiciliari e oncologiche. I nostri incassi vengono destinati esclusivamente alla sanità pubblica in modo particolare al servizio scudo che è un stato ed è molto apprezzato da tutta la popolazione per l'uso e la sensibilità, non solo la professionalità, di queste persone che lo frequentano. Come ogni anno a tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia ideata dai ragazzi della sezione Orafi del Margaritone. Questa medaglia è quando l'uomo si ricorda che è figlio della terra e quindi ama il prossimo. È una mano che regge un cuore con i battiti cardiaci che aiutano la situazione. Io ho fatto la faccia nella quale si viene rappresentata l'uomo che ha le radici appunto di un albero. Quindi appunto il significato è lo stesso disegno. Noi abbiamo le nostre radici nel pianeta, quindi nell'ecosistema stesso. Perciò è importante prendercene cura. Aprite il parco di via acuto, lo chiedono i residenti della zona. Ascoltiamoli. A noi e ai cittadini non interessa affatto se le strutture di ristoro, bar o altro non funzionano e non sono state ancora collaudate o non sono state affidate a chi li gestirà. Aprite per favore il parco. Sono ancora una volta i residenti a chiedere all'amministrazione comunale risposte sul parco di via Giovanni Acuto. Gli abitanti del quartiere di Pescaiola attendono infatti la riapertura da quattro anni. Chiediamo all'amministrazione che venga finalmente ridato quest'area verde all'uso pubblico ai cittadini perché quest'area che prima era a disposizione dei cittadini da quattro anni è chiusa perché ci hanno voluto fare un'operazione anche di investimenti per strutture di ristoro o altro campi di calcetto, campi dei tennis, quello che vogliono. Ma i cittadini sono stati privati della loro area verde che potevano benissimo godere. bastava averci speso 20.000 euro per fare più impianti di piante, avevano bisogno di un po' di panchine, di qualche gioco in più per i bambini e loro prima ci venivano, adesso da quattro anni non ne possono più utilizzare. Quindi noi vorremmo che ci dicano finalmente quando viene aperto questo parco. E domani è la festa della mamma e Save the Children pubblica un dossier che traccia un bilancio delle infinite sfide che le donne in Italia devono affrontare quando scelgono di diventare mamme. Il servizio. Si diventa madre e si esce o meglio si è costretta ad uscire dal mercato del lavoro, arriva il figlio e scattano le dimissioni volontarie per l'impossibilità di conciliare vita familiare e lavoro. Il gender gap poi si accentua quando arrivano uno o più bambini. Quello delle mamme equilibriste è l'immagine che Save the Children torna a proporre in occasione della festa della mamma con il suo dossier La Maternità in Italia nel 2024, un'analisi diffusa in occasione della festa della mamma che si celebra il 12 maggio e che traccia un bilancio delle sfide infinite che le donne devono affrontare quando decidono di diventare madri. Un quadro davvero poco rosio quello che emerge, i numeri infatti parlano chiaro. Le donne in Italia hanno una presenza diversa rispetto agli uomini nel mercato del lavoro, con la maternità poi questa differenza si accentua ancora. In Italia una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre e il 72,8% delle convalide delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne. Le donne poi, sempre secondo lo studio, scelgono di non avere figli o ne hanno meno di quanti ne vorrebbero. Ancora una volta in Italia c'è stato poi un nuovo record negativo per la natalità. Il 2003 ha registrato il minimo storico delle nascite ferme sotto le 400.000 con un calo del 3,6% rispetto al 2022. Inoltre l'Italia si conferma uno dei paesi europei con la più alta età media delle donne al parto, circa 32,5 anni. Per quanto riguarda invece le regioni più o meno amiche delle mamme, la Toscana guadagna una posizione conquistando il terzo posto. A guidare la classifica c'è ancora una volta la provincia autonoma di Bolzano, ma il tasso di natalità nella regione toscana resta ancora tra i più bassi. E adesso parliamo del grande spettacolo in cielo che c'è stato la notte scorsa, l'aurora boreale. Per tutti con un cielo terzo e un punto di osservazione abbastanza buio e anche un po' di fortuna. Si replica anche questa sera. Vediamo. I primi scatti sono iniziati ad arrivare nella chat di Arezzo Meteo intorno alle 22.30. Molti coloro che erano increduli di fronte ad un potente spettacolo della natura. Un fenomeno molto simile a quella che conosciamo come aurora boreale, ma visibile anche alle nostre latitudini. Un secondo episodio dopo la mezzanotte, forse ancora più intenso. Si tratta di una tempesta magnetica solare che sta attraversando la Terra e sta producendo questi effetti. Un fenomeno osservato molto da vicino anche dal gruppo Arezzo Astrofili dall'osservatorio Zero Spreco ad AESA Impianti. Sotto la lente, l'attività della macchia solare denominata AR3664, area di attività magnetica intensa sulla superficie del Sole apparsa proprio in queste ore. La particolarità di questa macchia è la sua estensione pari a 16 volte la Terra. La sua attività, dicono gli esperti, potrebbe provocare fino al 12 di giugno seri problemi come danni importanti ai satelliti e interruzioni alle telecomunicazioni e blackout elettrici particolarmente estesi. Intanto molti aretini si sono goduti gli effetti di questa tempesta magnetica solare e hanno immortalato quello che gli esperti definiscono un momento storico. E adesso passiamo alla cultura. Ultimo appuntamento della stagione concertistica di Ivan Bruschi, giunta alla sua 19esima edizione. In servizio. Si è chiuso con il concerto del maestro Roberto Pasquini assieme all'Assemblea Sezione Aurea, il Festival Musicale Internazionale della Fondazione Ivan Bruschi, giunto quest'anno alla sua 19esima edizione. Abbiamo questa serata dedicata, secondo me, al più grande compositorio di tutti i tempi, che è Mozart, Wolfgang Amadeus, che nella sua vita ha dedicato molte opere al flauto, non solo ovviamente la famosissima opera al flauto magico, insomma, dove il flauto è un po' il protagonista della catarsi, appunto di Tamino, ma anche opere per flauto quartetti e in questo caso abbiamo tutti i concerti stasera, concerti per flauto e orchestra, con orchestra da camera, chiaramente visto la location abbastanza piccola, sono dei piccoli gioielli che veramente penso il pubblico potrà apprezzare. Il famoso gruppo di musicisti si esibisce su strumenti originali. Cioè, sono suonati strumenti ad arco con le corde di budello e l'arco dell'epoca, che era un arco abbastanza diverso, appunto con una curvatura al contrario rispetto a quella dell'Ottocento, quindi era un suono molto più dolce, diverso. Le sale della Fondazione Ivan Bruschi hanno ospitato in tutto sei concerti che, come da tradizione, hanno portato in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Grandissimi nomi di ragazzi, giovani, vincitori di concorsi internazionali, abbiamo avuto sempre tutto esaurito, questo intanto è comunque un segnale importante, penso per la città, tantissimi anche appassionati che sono venuti da fuori, turisti, appassionati di musica internazionale e tra l'altro noi abbiamo avuto alcuni concertisti che sono venuti solo da noi. Passiamo adesso alla pagina sportiva, una serata per celebrare i valori dello sport declinati nella vita quotidiana. La città di Arezzo sarà sede della quarta edizione del premio Aquila d'Oro per celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair play. Una serata per celebrare i valori dello sport declinati nella vita quotidiana. La quarta edizione del premio Aquila d'Oro andrà così a rinnovare un format unico nel suo genere, volta a celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair play. Quest'idea è nata negli anni della pandemia da un obiettivo dell'amministrazione comunale e un obiettivo della ginnastica petalca, quale società più antica della nostra città, di premiare i valori sportivi, non solamente quelli della ginnastica ma quelli di tutto lo sport a retino associati a quelli della società civile perché i campioni dello sport sono anche campioni della vita e viceversa. L'evento è in programma alle 21.15 di lunedì 8 luglio nel suggestivo scenario della Fortezza Medicea. Il premio sta crescendo, questo è un po' un obiettivo di chi come la ginnastica petalca insieme al comune di Arezzo e adesso con il partnership della regione, Estra quest'anno che svolge il ruolo di miei sponsor insieme a tanti altri partner commerciali, tutti insieme abbiamo l'obiettivo sicuramente di farlo crescere sempre più questo premio. Il rapporto tra lo sport ed Estra è sempre stato importante, solido perché ci richiama al gioco di squadra i valori in cui crediamo. Grande ospite della serata il ginnasta Igor Cassina, oro alle Olimpiadi 2004, che riceverà il premio Aquila d'Oro, il valore nel successo. Premio speciale poi consegnato dal CONI e intitolato a Giorgio Cerbai. L'anno sarà dedicato a uno dei giovani del panorama sportivo aretino che verrà scelto tramite i sociali, quindi è un modo per dare rilevanza e risonanza anche a queste giovani generazioni che già, seppur con un breve percorso sportivo, ma si sono distinte per impegno, per resilienza, per passione. Un laboratorio nelle scuole, un concorso di disegno e una pedalata per le famiglie. La decima edizione della Chianina ciclostorica sarà arricchita da un progetto rivolto esclusivamente ai più piccoli, la Chianina dei bambini, finalizzato a promuovere l'utilizzo della bicicletta tra le giovani generazioni come stile di vita sano e come occasione di socializzazione e come scoperta del territorio. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dall'Associazione La Chianina SD e prenderà il via lunedì 13 maggio con due incontri con gli alunni delle scuole primarie di Marciano della Chiana e di Cesa. Il cuore del percorso sarà alle 17 e di sabato 8 giugno con l'organizzazione di una ciclostorica su misura per i più piccoli. E adesso passiamo al calcio, ultima partita della stagione al Comunale per le ragazze Amaranto di Mr. Leoni che ricevono il Cesena. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15. Sentiamo le parole di Mr. Ilaria Leoni alla vigilia del match. È una partita tosta perché comunque il Cesena è un'ottima squadra, infatti è la quarta forza del campionato e fino a tre giornate fa si lottava il primo posto in classifica barra anche il secondo posto. Quindi sarà una partita difficilissima ma noi siamo pronti e carichi per cercare di portare questi tre punti a casa. Per quanto riguarda le giocatrici da recuperare non abbiamo recuperato nessuno. Però come sempre siamo un gruppo coeso, tutte si marinano nel posto, quindi chiunque entrerà in campo sono sicura e darà il massimo, il 100% di lei stessa. Per quanto invece riguarda un'infortuna abbiamo avuto questa ieri, un'infortuna a Berglos per una distorsione della caviglia, quindi purtroppo lei non sarà presente alla partita e gli faccio i miei migliori auguri. Sicuramente partiremo con lo stesso modulo, sistema di gioco, ma poi come ho sempre detto le giocatrici si devono posizionare e cambiare posizioni nel modo migliore possibile. E questa era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie.